good morning si in realtà qui sono a mezzogiorno la mezza diciamo mi sono svegliato un po tardi un po prima ma di nuovo mi sono addormentato poi un po tardi perché stanchezza accumulata comunque io dico che già pomeriggio ormai mister master maestro o semplicemente semplicemente david lynch it's april 25 2022 and it's monday in eppos a middle but more cloudy morning with some vento abbastanza un po leggero insomma and 60 and 8 5 916 celsius and this means that it's that day really 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 soft like this day and this period però non proprio proprio soft ma comunque comunque un clima primaverile a causa sempre del vento as you guard the video toots in the case is always separate from this sempre se lo faccio per cui occhio anyway as you and you'll just see from the window i think that it's already afternoon credo ci mantiamo su questi we maintain on this degrees of air of this moment but really important thing in a negative point is that for me we aren't going to be enjoying those beautiful blue skies and golden sunshine but it's also objective che sarà così it will be in this way almeno salvo miracoli e come dico la mia frase caldo ovviamente le cose possono sempre cambiare un momento all'altro but as always we'll see but in this case la vedo un po it's a bit impossible but we'll see per cui speriamo direttamente una giornata migliore domani per cui said this so from the mythical wind with the orange red blue green water curtain in this green roller shooter behind me on the top not visible and in fact in the shot and finally from my mythical keyboard di amadi gx 640 ipg 625 have a great day in all the people who follow the channel the reports un saluto davvero a tutti and also i hope you have a great breakfast io la farò tra poco il mio stomaco è pronto non so se lo sentite e soprattutto spero vi possiate consolare con la colazione with the breakfast se dalle vostre parti il tempo è brutto come qui si i'll see you in the video toots in the case i'll do it or tomorrow